E' ovvio che l'intervento di difesa della costa non spetta al Comune ma spetta alla Regione e allo Stato ovviamente per gli ingenti finanziamenti che servono. Tra l'altro il Comune di Fanno ha già costruito le scogliere che tutti possono vedere investendo un milione d'euro di soldi di tutti e di tutti i cittadini per cui l'investimento che noi abbiamo fatto è un investimento molto importante. Quello che sarà sicuramente fatto a settembre è quello di costruire un altro setto in direzione Pesero di quelli già esistenti di Sassonia e quello si farà e rialzeremo le tre scogliere soffolte che ci sono davanti all'ex pista dei go-kart. E quindi questo lavoro sarà già fatto, i soldi ci sono, ce li ha dati alla Regione e quindi la variante è già stata approvata sia dal Comune che dalla Regione e quindi questo lavoro si farà. E poi mancherebbero due setti per chiudere appunto questa difesa della costa fino al porto, la diga foranea del porto di Fanno. E questi finanziamenti noi aspettavamo arrivassero dal Salva Italia. Abbiamo inteso ovviamente in una fase politica anche ferragostana che questi soldi potrebbero non esserci più in futuro. Sono soldi diciamo importanti che noi ci aspettavamo per concludere questo lavoro e speriamo che il governo possa trovare il modo di riproporli sotto altre forme. E' chiaro che noi abbiamo già iniziato comunque un'attività molto importante per quanto riguarda la difesa della costa perché abbiamo già iniziato un programma ovviamente pluriannale di attività per difendere la costa sud del Metauro. E' la notizia molto positiva che senza soldi del governo ma soldi della Regione e delle ferrovie dello Stato abbiamo iniziato la progettazione di un intervento che costerà alla fine 4 milioni e 300 mila euro circa e che appunto va dal fiume Metauro fino a Torrette. Quindi le attività noi le facciamo, andiamo avanti con i nostri programmi. E' ovvio che il Comune insieme alla Regione e speriamo insieme al Governo riescano a trovare delle soluzioni per il bene della nostra cittadina. Quindi non disperiamo però siamo molto preoccupati perché questi soldi a cui noi facevamo molto affidamento probabilmente in futuro non ci saranno.